Lo scrittore Giuseppe Pontigia scriveva da più di vent'anni sull'autorità ed era interrogato dalla figura di Gesù che a 12 anni discuteva con i dotti del Tempio. Aveva autorità, questa è la questione che aveva sottolineato, senza possedere eserciti. La sua equipa, compreso il tardivo Paolo, è stata smantellata da quel mondo a cui non apparteneva il suo regno e le versioni che abbiamo sono di convenienza. Nessuna autorevolezza, così invocata oggi dalla gerarchia dei cretini al potere, per governare su un popolo di candidati al loro stesso savoir-faire, nessun autoritarismo a pannaggio dei figli del Dio Maggiore e nessun anti-autoritarismo appannaggio dei figli del Dio Maggiore. Dei che sono la negazione dell'istanza del monoteismo che non è un teomorfismo tra puliteismi. Pontigia, in un'intervista, mi dice di aver scritto 150 pagine sull'autorità, ma si tratta chiaramente di un bruyon e non di un testo compiuto. La moglie dello scrittore, scomparso nel 2003, pubblicherà le uniche tre pagine compiute. Su sua sollecitazione, nel 2002, mi ero permesso di suggerirgli la lettura dei testi delle cifrematiche, in particolare il numero di una rivista di diritto e psicanalisi dedicato all'autorità. Gli avevo anche parlato dell'opera dello psicanalista e storico del diritto Pierre Legendre e della sua teorizzazione dei principi di autorità. E volevo riprendere con lui la ricerca sui linguaggi totalitari fatta dal filosofo Jean-Pierre Fay. E forse avrei anche ripreso la lingua del Terzo Reich e, perché no, avrei parlato a Pontigia anche della nazificazione del linguaggio elaborata dallo psicanalista Jean-Jacques Moscovitz. Qualche anno dopo ho letto il saggio sull'autorità del filosofo Alexander Kojev, pubblicato postumo in francese nel 2004, e poi pubblicato in italiano, dove è questione del principio di autorità e delle sue declinazioni storico-sociali, ben lungi dall'analisi del potere di Machiavelli. Sembrerebbe infatti il testo di Kojev un testo di sociologia dell'autorità, dell'autorità senza principio, che interessava a Pontigia, nessuna traccia. Cerco ancora altri elementi sull'analisi dell'autorità nel libro di Miriam Revol d'Alon, Il potere degli inizi, saggio sull'autorità, e nella sua sociologia trovo un altro archivio da leggere, ma non risposte. Ho recensito lungamente questo testo francese, non tradotto in italiano e la recensione stessa in francese. È in questo itinerario di lettura dell'autorità che leggo l'opuscolo di Luisa Muraro dal titolo Autorità, edito da Rosenberg e Selye nella collezione Gemme, quest'anno, ovvero nel 2013. Come giusto, altro è il tessuto, la trama inordito, della ricerca della filosofa femminista Luisa Muraro. Niente coseva nelle genre, niente psicanalisi, sebbene il suo debutto pubblico sia stato la traduzione di un testo di una psicanalista, Luce Irigarai. Peraltro, Luisa Muraro e la psicanalisi sarebbe un testo interessante da scrivere. Alla sua uscita, ho recensito, anche in questo caso, con Dovizia, il suo libro Il Dio delle Donne. L'approccio di Luisa Muraro ha due aspetti distinti. L'uno, quello di trarre l'insegnamento dalla sua stessa esperienza, e questo viene dalla pratica femminista, anche a partire dall'autocoscienza. E l'altro, quello del confronto con la mistica femminile e i suoi territori confinanti. L'altra è la modalità, diciamo, filosofica, del confronto con i testi, con gli autori e le autrici del passato e dell'attuale. In questo caso, ho eletto il percorso di Simone Weil. La propria esperienza è quella che sola può offrire la novità e l'invenzione linguistica corrispondente. E il confronto con altre esperienze e con altri testi è essenziale per non deragliare e prendere un fantasma al posto del reale. Luisa Muraro ha di fronte il principio di autorità, esercitato quasi per intero dagli uomini e dalle sue riformulazioni come le tesi del new authority. Avverte Muraro che nella nostra cultura manca qualcosa in tema di autorità e non abbocca, ovvero imbocca, la ricerca del senso dell'autorità. Chissà perché non la ricerca dell'autorità, ma la ricerca del senso dell'autorità. Non è questione del sapere dell'autorità, è ancora meno della verità dell'autorità. Eppure il primato del senso dell'autorità le fa prendere il sapere dell'autorità femminile come verità dell'autorità della madre. Ma questo è il discorso di Luisa Muraro, discorso come causa. Non è la parola nel suo atto originario. E' la sua linguistica che procede dall'apertura e non dalla versione dell'uno al femminile. E' questa versione sociale dell'uno, e' questa conversione, universione, che va verso la questione dell'universale, che l'ha portata a presumere un ordine simbolico della madre, quando anche quello paterno non è altro che una credenza in Babbo Natale. Ecco l'altra linguistica di Luisa Muraro. La lingua che parliamo esercita una meravigliosa forma d'autorità. E poi sottolinea chi scrive scommette principalmente sull'autorità della lingua. Sarebbe da concludere qui la bella citazione. Ma emerge nuovamente traccia del discorso. Il suo riconoscimento che può venire da chi legge apre al riconoscimento che può venire da chi legge. Invece il riconoscimento come la distinzione non è sociale. La manipolazione di chi legge da parte del discorso imperante è anche un monopolio del riconoscimento. Nulla da aspettarsi da chi legge. Dipende dal come legge. La parola riceve autorità? Così presume Luisa Muraro. Oppure l'autorità è nella parola oltre che della lingua? Come scrive Muraro. I datori dell'autorità sarebbero i lettori? Precisare ulteriormente lo statuto dell'autorità della lingua richiede almeno un confronto con la linguistica della psicanalisi e non solo quella di Lacan. Ma per l'appunto Lacan non gode buona salute tra i lettori. In breve non è letto stesso destino che quello di Freud. L'escursus storico e linguistico di Luisa Muraro identifica nel Rinascimento il rigetto dei principi d'autorità. Per l'appunto la distinzione da porre è quella tra principio di autorità e autorità. Anche tra concetto di autorità e autorità. Il rigetto come la rottura è un modo del principio di autorità e così la contestazione dell'autorità della gerarchia come nel riformo protestante ha creato solo un'altra chiesa. e così la rivoluzione scientifica di Galileo Galilei è ancora compromessa con l'ordine gerarchico come nota giustamente Muraro che riporta il destino delle due figlie chiuse in un convento per lasciare l'eredità tutta al figlio maschio. Una definizione di autorità di Luisa Muraro è quella di forza simbolica intrinseca alla parola stessa e questo è orientamento e occidentamento dell'esperienza. Quando poi affronta il fondamento mistico dell'autorità che è una citazione la Montegna il rischio è quello dello sbandamento quello del discorso quello di seguire il discorso degli altri. L'originario quando è indagato con un sapere come causa si mostra come mistica come segreto come mistero è con una perla di questo sapere saputo ogni autorità quale sia la sua fonte attiene all'ordine simbolico eppure l'autorità non si iscrive nell'ordine dei quantificatori universale e esistenziale l'ordine simbolico non è statico non è ontologico e nemmeno suddiviso in femminile maschile Luisa Muraro uscilla tra discorso e scienza della parola cito l'autorità non ha un fondamento essa è un fondamento altrimenti non sarebbe autorità ma un simulacro del potere strumento del trionfo dell'autoritarismo modo di porre l'autorità fuori dalla parola evidentemente mal ripartita tra detentori del potere e detenuti ribelli non stiamo dicendo che il tema affrontato da Luisa Muraro sia facile e chiaro quando Luisa Muraro nella lettura di Montegna si imbatte nella questione del nome si trova dinnanzi alla questione assoluta ed è pare la questione più difficile si chiede il nome è solo una mutevole condizione umana e nuovamente la scienza dell'esperienza e non quella libresca la spinge nella giusta direzione l'autorità della legge è l'autorità della lingua e di un nome e proseguiamo nelle sfumature Lacan parlava di la langue tutto attaccato mentre Verdiglione ha coniato in termine la lingua e l'apostrofo a lingua per indicare l'impossibile padronanza sulla parola resta tuttavia che la funzione di nome quella che Freud chiama funzione di rimozione è anche funzione di zero e funzione di padre non funzione paterna come in Lacan e nel lacanismo e dire un nome è come dire uno zero invece o è zero o è uno o è funzione di nome o è funzione di significante e il nome secondo Freud è un significante rimosso l'indistinzione tra principio di autorità e autorità originaria autorità della parola e nella parola è appesa l'indistinzione al primato del fallo quello che è messo in discussione ma non senza oscillazioni e sbandamenti e sono anche impossibilità di analizzare certune formulazioni che sono connotazioni sociali così stratificate e quasi sostanziali da sembrare materiali originari come per esempio la condizione umana quale grande tema della filosofia di Montaigne la condizione nella lingua non ha nulla di umano può anche risultare abietta immonda abberrante così lo specchio lo sguardo la voce quali aspetti dell'oggetto della parola nessuna prerogativa del soggetto che inutilmente può suddividersi algebricamente in maschile e femminile oppure in cinque generi oggi offerti nel supermarket globale dai gender stali l'autorità può agire senza i mezzi del potere e del dominio scrive Luis Muraro l'azione è della parola e non il frutto dell'ideologia e neanche dell'idea a meno di dire che l'ideazione stessa è inconscia e non è la facoltà di immaginare di avere delle idee ma quando si declina al femminile l'autorità è tolta a favore del suo principio che è anche principio dell'innegabile su cui si fonda la negazione dell'esperienza l'economia della negazione scrive Luisa Muraro dell'autorità femminile abbiamo fatto un principio politico l'autorità femminile dà la parola a esperienze mute che sono state escluse dall'opera della civiltà e tutto questo è preso dalla mascheralità maschile impossibile peraltro dare la parola o prenderla la presa è della parola senza prendere questo come malattia come ha fatto Lacan che parla della parola come di un cancro chi dà la parola a un muto a una muta è un una vociferante chi dà la parola agli esclusi è un una incluso inclusa ma grado o buon grado senza il grado dell'esperienza originaria allora non ci sarebbe più l'originario ma l'origine non ci sarebbe più l'autorità nella parola ma il principio di autorità in mano agli umani per lo più maschi ecco la tesi di base di Luisa Muraro l'autorità ha origine nella relazione materna intesa come rapporto biologico che diventa relazione umana man mano che si traduce in gesti segni parola questa ominizzazione della natura che troviamo anche e soprattutto in Claude Lévi-Strauss è l'altro nome dell'impianto totemico e tabuico l'altro nome del primato del fallo e volgerlo al femminile non modifica l'impianto interessante quando Luisa Muraro obietta a Simon Weil che scrive la gerarchia è un bisogno vitale dell'anima umana e afferma a me pare che in una gerarchia prevalgano sempre i rapporti di potere sono il sistema dei rapporti di potere ma una connessione tra la gerarchia e l'ordine simbolico della madre Luisa Muraro non la fa e così propone di combattere il circolo della forza con la forza simbolica dell'autorità senza intendere che combattere il circolo lo fonda come prigione necessaria è un modo della riproduzione della prigione del fantasma di prigione in Platone e così la trasgressione e la rivolta magnificate da Luisa Muraro appartengono al primato del fallo la ricerca del senso di autorità sino all'approdo nel suo possesso sono senza nominazione senza materia della parola si tratta di psicologismo antropologismo misologismo la voglia di farsi capire e di scrivere in modo semplice trae con sé persino gli occhi della mente e la magia della parola d'accordo ripresa questa da Pavel Florensky allora è anche facile credere che per esempio la crisi dell'autorità sia innegabile tesi dal cebrista in attesa di geometrista di esecutore oppure facile credere in Aristotele ossia non sputare su Hegel credendo che noi siamo animali simbolici impastati di parole credendo quindi all'impastatore e all'impastatrice ai loro ordini simbolici al senso femminile e al senso maschile dell'autorità la mia non è una diretta presa di parola maschile semmai preso nella parola nella sua logica e nella sua politica tra la difficoltà e la semplicità mi trovo in un viaggio linguistico singolare in cui attenermi all'autorità del nome funzionale è il cito Luisa Moraro l'antidoto di ogni idolatria e anche di più oltre all'aspetto farmaceutico dell'idolo ondeggiante tra rimedio e veleno la negazione dell'originario non basta mai occorre reiterarla come supplezio di Sissifo il bisogno d'autorità caro a tante ideologie è quello del suo principio ovviamente dato sempre come carente tramontante declinante manchevole scomparso evaporato eccetera di Sissifo di Sissifo a